Ragazzi, non mi piace dire ve l'avevo detto, ma ve l'avevo detto. DJI Mini 3 Base ha 469€, scontato del 20%. La sua versione Combo ha 658€, scontata del 15%. DJI Mini 3 Base con DJI RC Controller ha 639€, scontata del 16%. E infine, la sua versione Combo ha 828€, scontata del 13%. Questi prezzi li avrete sicuramente già visti nel mio canale Telegram ufficiale TechBestDeals, in cui vi invito ad entrare, in caso non ci foste già, lo trovate mincato nei primi righi qui sotto in descrizione video. Ma cosa sta succedendo ragazzi? Beh, in tempi non sospetti ho già palesato i miei dubbi riguardanti il DJI Mini 3. E' a mio parere una versione castrata del DJI Mini 3 Pro, venduta ad un prezzo troppo troppo alto. Ok, c'era la favoletta, la storiella dei 2-3 minuti di autonomia in più rispetto al modello Pro, quando poi, quei pochi minuti di autonomia in più, spacciati come grande novità e innovazione, si potevano benissimo ottenere anche sul modello Pro, semplicemente disattivando i suoi sensori anticollisione. Purtroppo l'azienda cinese, da quel che so, non comunica al pubblico i dati di vendita dei suoi prodotti, ma un ottimo metro di confronto lo troviamo grazie alle recensioni di Amazon. Il DJI Mini 3, infatti, lanciato sul mercato a fine 2022, quindi all'incirca 4 mesi fa, al momento vede poco più di 200 recensioni su Amazon Italia. Invece il modello Pro, lanciato a maggio, metà maggio 2022, quindi all'incirca una decina di mesi fa, comunque meno di un anno, vede la presenza di ben oltre 5.000 recensioni su Amazon Italia. E se andiamo a fare un confronto, una differenza, notiamo che le vendite, la portata delle recensioni del Mini 3 sono davvero imbarazzanti. Ora, io non posso dire con certezza che il Mini 3 a livello di vendite sia un flop, purtroppo in assenza di comunicati ufficiali sulle statistiche di vendite dei prodotti è difficile dirlo, ma è un dato di fatto che il DJI Mini 3 sia un drone davvero poco considerato. È già la scelta di lanciare la versione base dopo la versione Pro, sinceramente io non la capisco. Comunque sia, il DJI Mini 3, continuo a ripeterlo, secondo me è una versione castrata del Pro e a quanto pare in tanti lo hanno visto. È stato lanciato a un prezzo troppo alto e quello che vediamo ora in offerta, fino al 20%, come vi ho detto all'inizio video, a mio parere, e sempre a mio parere, è il prezzo che questo drone avrebbe dovuto avere al momento del lancio. Tra l'altro, segnalo che è un po' in sordina, è arrivato anche il DJI Mini 2 SE, senza grandi pubblicità. Comunque lo trovate su Amazon per 359€. Tutti i link per acquistare questi droni sono, come sempre, nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Tears, che trovate linkato qui sotto in descrizione di video. Quindi ragazzi, non voglio dirvi che ve l'avevo detto, ma ve l'avevo detto. Ecco, recensioni marchettate, prezzolate e sbriluccicanti a parte, il DJI Mini 3 ad oggi è stato un drone che di fatto non sta vendendo quanto DJI sperava. È l'azienda cinese dovuta correre ai ripari scontandolo di un bel po', del 20%, che ragazzi è un quinto del suo prezzo, tantissimo. È per un marchio DJI, appunto, che come prezzi ricalca molto Apple, quindi sconti molto, molto difficili da trovare a pochi mesi dal lancio dei suoi prodotti. È difficile parlare già di un DJI Mini 4, magari di un DJI Mini 4 Pro, perché, ragazzi, il DJI Mini 3 Pro è arrivato a maggio, meno di un anno fa, il DJI Mini 3 è arrivato quattro mesi fa, e io penso che per un Mini 4 dovremo attendere almeno la fine del 2023. Poi magari posso essere smentito, ma questa è la mia idea. Quindi, ragazzi, se volete acquistare oggi un drone, il prezzo del Mini 3 è interessante. Io ve l'avevo detto, aspettate, ragazzi, perché il prezzo di lancio era troppo alto, ed eccoci qui con degli sconti, delle offerte, davvero... Non dico invitanti, perché questo, secondo me, è il prezzo che il drone doveva avere sin dal lancio, però sono prezzi buoni. Ora, ragazzi, voglio sapere a voi cosa ne pensate di questo drastico calo di prezzo del DJI Mini 3. Lo trovate sensato? Trovate che ci siano dei problemi in casa DJI? Parliamo insieme qui sotto nei commenti. Dite la vostra, fatemi sapere, secondo voi, una previsione sul lancio del DJI Mini 4. Se questo video è stato di vostro interesse, potete supportarvi con un like, condividendo i vostri amici e iscrivendovi a questo canale, se non l'avete già fatto. Siamo già quasi 90.000. Grazie a tutti. Detto questo, ragazzi, ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addictus2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi e buon volo! Alla prossima, ciao!